Il destino ha deciso che io devo vivere nella miseria e va bene, va bene, sia così, ma devo stare bene in salute, non mi posso ammalare, io me la voglio godere questa miseria. E' morto Luigi De Filippo, aveva 87 anni, attore, regista e comediografo figlio di Peppino De Filippo e nipote di Edoardo, ultimo erede della storica dinastia, nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena con Natale in casa Cupiello di suo zio Edoardo, al teatro Parioli di Roma, di cui era direttore artistico. Ha debuttato ventenne nella compagnia paterna, ha interpretato sia film che fiction tv, ma si è dedicato soprattutto al teatro, portando in scena testi suoi del padre, dello zio, ma anche di autori europei del Novecento. Voi ci piacete tanto a tutte e due, mia moglie con uno, fare il salto? Nessuno farò scemo con l'avore. Per aver incarnato e assunto nel proprio personale ingegno la potenza delle maschere dell'uomo, patrimonio di un'intera famiglia di geniali artisti della cultura napoletana e dell'Italia, coniugando testi di nobilissima tradizione dialettale con quelli della scuola italiana, in dialogo costante con le più dotte correnti della comunicazione teatrale internazionale, per aver dato anima e parola alla sfuggente tensione di ciascuno, d'essere compreso e di comprendersi, avendo espresso nel magico incanto del teatro, quel sentimento ambiguo d'angoscia e speranza dello scoprirsi soli, eppure tutti connessi insieme. Queste alcune delle motivazioni per cui l'Università degli Studi della Basilicata ha conferito al maestro Luigi De Filippo, il 4 maggio del 2016, la laurea honoris causa in Scienze Filosofiche della Comunicazione. Il maestro definì quel momento uno dei giorni più belli della sua vita. In Basilicata c'è Matera 2019, cosa ne pensi? Penso che è giusto che una bellissima città come Matera venga valorizzata e venga conosciuta nel mondo, perché è un gioiello unico che noi abbiamo coperto con la sabbia, con la dimenticanza, e invece va valorizzato come tanti altri posti molto belli della nostra nazione che non vengono valorizzati come dovrebbero essere.